Oggi si è concluso il congresso Regenerative Surgery, ho avuto il piacere e l'onore di essere tra gli speaker. Cosa è uscito da questo che è uno tra i più importanti congressi al mondo nella chirurgia rigenerativa? Innanzitutto l'importanza della rigenerazione delle cellule staminali nel ringiovanimento del volto, ma altre due cose sono state estremamente interessanti, le applicazioni nella ricrescita dei capelli e nel ringiovanimento dei genitali femminili. Queste sono due nuove frontiere molto interessanti e vi terrò aggiornato su quello che c'è di nuovo in futuro, ma ricordatevi che la chirurgia rigenerativa è il futuro in tutto quello che è la chirurgia estetica.